questo è un ascensore cuochi installato non troppo tempo fa in un condominio storico dell'anno 2013 porta 300 kg ed è molto piccolo adesso è sera tardi quindi non parlerò molto c'è la chiave ma l'ascensore dà l'idea di funzionari ampi senza averne bisogno ora è tornato il senso è molto piccolo ma è comprensibile essere una piattaforma elevatrice tuttavia il suo lavoro lo fa bene magari non è comodo perché la distanza tra un piano e l'altro è molto lunga quindi bisogna aspettare del tempo inoltre mi sa che ci sono le porticine a soffitto che sono guaste e questo causa dei problemi potrebbe causare dei problemi quindi Grazie. Grazie.